A casa Milan si allunga la lista dei Bomber avvicinati, accostati al mondo rosso-nero. Oggi è il turno di Bomber Medi Taremi, giocatore iraniano in forza al porto, giocatore che conosceremo nel corso del video e secondo quanto riporta la gazzetta dello sport, ora sarebbe lui in cima alla lista dei desideri dei sogni del mondo Milan. Sembrerebbe che le sue caratteristiche tecniche e tattiche, abbiate le caratteristiche fisiche e le statistiche degli ultimi anni, stiano spingendo, stiano convincendo l'area rosso-nero a fare un investimento su di lui. Almeno questo è quanto riporta la gazzetta dello sport, mentre dalla Spagna molti quotidiani, sia Aschere e Levo, parlano di un possibile arrivo di Morata già nel corso della prossima settimana. Staremo a vedere, però è giusto riportare anche quelle che sono le fonti italiane. Torniamo a parlare di Medi Taremi, giocatore che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro, giocatore che ha già rifiutato delle offerte importantissime che sono arrivate dall'Arabia, vuole restare in Europa, vuole giocare in non-top club, vuole dimostrare tutto il suo valore. C'è un primo problema, una prima problematica che andrebbe a condizionare quelle che sono le scelte di mercato rosso-nero. Infatti il giocatore è un giocatore extracomunitario, quindi andrebbe a occupare lo slot extracomunitario, che vorrebbe dire rinunciare a Ciweze, esterno nigeriano del Villareal, che abbiamo già ampiamente raccontato. È un giocatore, meditaremi, nel pieno della sua maturità. È nato il 18 luglio del 92, quindi ha 31 anni, tra pochi giorni. Una punta fisica, un 186, un nazionale iraniano, che ha fatto un po' il giro del mondo prima di arrivare in Europa a consacrarsi. Ora, attraverso un articolo, un articolo di fanpage, capiremo un pochino di più chi è meditaremi. Vi faremo conoscere chi è questo profilo. Meditaremi è un attaccante classe 92, quindi 31 anni, che ha raggiunto la totale maturità tanto da essere un autentico trascinatore del porto. Giocatore, quello iraniano, che è arrivato nel porto dal 2020 al 2023, con la maglia della squadra portoghese, ha segnato 69 reti, 46 assist, in 130 presenze. Primi due dati, quindi un gol ogni due partite, un assist ogni tre partite, che per un attaccante sono numeri davvero interessanti, davvero importantissimi. È un giocatore che prima di arrivare in Portogallo, non è arrivato al porto, ha fatto esperienze diciamo in tutto il mondo, prima diventando il bomber nel suo campionato, nel campionato iraniano, poi nel 2018 in Qatar, dove ha fatto 21 reti in 42 partite, poi a Rio Ave, dove sono stati molto bravi, molto abili a scovarlo, a prenderlo, e poi il passaggio, la continua crescita nella sua carriera con la maglia del porto. È un giocatore molto forte fisicamente, che sembra quasi, vista la stazza lento, anzi, però è un giocatore che è tutto il contrario, un giocatore rapido, un giocatore che fa tanti gol anche in acrobazia, quindi molto mobile e molto elegante. Ed è un giocatore che piace tanto al Milan perché sa abbinare entrambe le fasi, da prima punta, da puntero, quindi giocatore fisico che fa salire la squadra, al giocatore che però sa anche dialogare molto bene con quei compagni. Questi numeri lo testimoni, questi numeri caratterizzano, quindi tanti assist, tanti gol, tanta continuità e quest'anno ha fatto veramente tantissime, tantissime reti e ha trascinato il porto, comunque è un risultato importante in Champions League portandoli appunto fino agli ottavi dove poi sono stati eliminati dall'Inter. Quindi il nome nuovo è Taremi, costi accessibili, 20 milioni di euro, un giocatore che appunto potrebbe portare via lo slot extra comunitario, quindi sono in corso delle valutazioni. Goffrey Moncada e Giorgio Furani stanno riflettendo, stanno parlando in maniera intensa con Stefano Pioli perché poi sarà Stefano Pioli a definire quelle che sono le priorità, dove e come intervenire sul mercato. Però il nome nuovo di Taremi, Medì, negli ultimi giorni si è fatto, volevamo un attimino farvelo conoscere un pochino meglio il suo percorso, quindi prima in Iran, poi in Qatar, poi a Rioave, poi appunto al porto. Mentalità da vendere, rinuncia alle offerte finanziarie, economiche importanti che arrivano dall'Arabia, vuole consacrarsi anche se non è più giovanissimo in Europa, dimostrare tutto il suo talento per poi magari un domani valutare anche un'avventura magari più redditizia. Però è un giocatore che ha grande mentalità, piace questo, piace perché è un lavoratore, piace perché soprattutto è un giocatore ambizioso, ambizioso come il nostro Milan. Fatemi sapere amici, di rubrica rossonera cosa ne pensate e come sempre cliccate like e se dovete creare YouTube di rubrica rossonera.